In montagna c'è tanta neve, ma le avverse condizioni meteo, che proprio a Pasqua tenderanno ad un ulteriore peggioramento, impediscono l'apertura alle stazioni sciistiche ossolane. Partiamo da una delle situazioni più delicate, quella di Riale, in Alta Valformazza. A causa del pericolo rappresentato dalle valanghe, la strada per l'Alta Valle è chiusa a Canza, di fatto Riale con la sua pista di fondo rimangono isolate. Abbonati a soli 9,90€ all'anno! Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.